Benvenuti nel mio canale a casa con Giulia, vediamo come seccare i vostri promontorini dell'orto. Per prima cosa lavateli, tagliate il picciolo e divideteli a metà. Posizionateli nella griglia dell'essicatore e cospargetele con sale e mixte erbe aromatiche. Volete riempito tutte le griglie, accendete l'essicatore a circa 55 gradi per 24 ore e i vostri pomodorini saranno pronti. Grazie per aver visto il mio video e se ti è piaciuto lascia un like.